Bentornati e buon lunedì a tutti. Videomercato di oggi, un videomercato che parla di alcune cose che sembrano essere molto vicine e di altre che invece pensavamo fossero molto lontane e invece si stanno avvicinando. Prima di tutto questo però vorrei ricollegarmi a un discorso di qualche giorno fa. Vi ricorderete sabato abbiamo parlato del ferpele finanziario, abbiamo parlato della situazione bilancio Milan. Ebbene, volevo precisare alcune cose che sono importanti dal punto di vista di comprensione anche di quelli che potranno essere i movimenti di mercato della nostra società. Perché? Perché sappiamo che ci sono state alcune variazioni rispetto al calcolo dei parametri del ferpele finanziario delle varie società dovute alla vicenda del covid, naturalmente al lockdown e ai mancati introiti. Ebbene, una parte, anzi metà di quello che si presume potessero essere, possano anzi essere i mancati introiti in riferimento alla stagione 19-20 che sarà saltata e in un certo senso si andrà direttamente a 2021. Ebbene, appunto di questo presunto ammanco che sarebbe andato ad aggravare la situazione di bilancio del ferpele finanziario, la UEFA ha deciso di considerare solo metà. E questa è una cosa importante anche per noi. Un'altra cosa importante di cui tenere conto è che a livello di bilancio non sono tanto le questioni relative agli ingaggi a essere pesanti quanto il discorso del prezzo dei cartellini. Ed ecco perché per alcuni giocatori dei quali parleremo adesso sarà importante riuscire a trovare, nel caso in cui si voglia veramente concludere l'affare, un accordo tra quello che le società che detengono il cartellino vogliono e quello che il Milan vuole. E allora cominciamo parlando del discorso difesa. E parliamo di un giocatore in uscita e di un giocatore svizzero che fa il terzino e si chiama Riccardo Rodriguez. Oggi sono circolate alcune notizie un po' spaventose, nel senso che mentre sembrava ormai in via di definizione l'accessione al Torino, oggi come dicevo si è parlato della possibilità di un prestito ai Granata. Poi cosa che invece per fortuna si è superata, ebbene la trattativa tra Milan e Torino per l'accessione di Riccardo Rodriguez dovrebbe concludersi presumibilmente nella giornata di domani. E si dovrebbe concludere con una situazione che diciamo non è vantaggiosissima per noi, nel senso che noi chiedevamo circa 3 milioni e 8 per il cartellino del giocatore, il Toro ne offriva 3, si pensava che si trovasse un accordo sui 3 e mezzo, invece si pare che si è più orientati verso i 3 milioni di euro. Ma chiaramente Riccardo Rodriguez è in scadenza nel prossimo anno, per cui più di tanto il Milan non può chiedere. Ebbene, destinazione dunque Toro per Riccardo Rodriguez. Anche Davide Calabria pare sia stato richiesto da Marco Giampaolo, il nuovo tecnico del Torino, ma sappiamo anche che la pista spagnola è molto viva per il nostro terzino destro. A proposito dei terzini destri, ci sono i due nomi che sono al momento quelli in pole position. Poi naturalmente sappiamo che ci sarà la volontà di fare delle operazioni da qui al 24 quando ricomincerà la stagione, naturalmente il contratto di Ibra su tutte e poi anche altre operazioni. Quindi tra queste potrebbero rientrare anche quelle relative al terzino destro. Allora sono sempre due nomi che tengono banco e da questo punto di vista vediamo un po' quelli che sono i valori, proprio in riferimento al discorso che facevo prima legato al felpre finanziario. Allora, il nome di Aurier è naturalmente un nome vivo del quale si parla molto in questi giorni. La richiesta del Tottenham è di 23 milioni di euro per il giocatore, l'offerta del Milan è di 16 milioni di euro. Invece è Denzel Dumfries, il PSV chiede 18 milioni di euro, il Milan vorrebbe pagarlo un po' meno e vorrebbe soprattutto avvalersi di quelli che sono i buoni uffici con Mino Raigola che è il procuratore del ragazzo. Per quel che riguarda invece l'altra fascia, la fascia sinistra, con appunto Riccardo Rodriguez pronto ad andare al Torino con un laxalt che presumibilmente sarà anche lui in uscita, si era parlato, ricorderete, di Robinson, il difensore del Wigan che sembrava dovesse arrivare già nel mese di gennaio. Ebbene invece è saltato quella volta per dei problemi di salute del ragazzo, problemi cardiaci, ricorderete, e salta anche adesso perché sembra molto vicino l'accordo con lo Sheffield United che praticamente ha di fatto preso Robinson e quindi bisognerà trovare un altro nome come Viceteo, a meno che non si decida ovviamente di tenere laxalt. Per quel che riguarda invece il discorso di difensori centrali, anche oggi si è fatto un gran parlare di Milenkovic, ma è chiaro che è un nome che, voglio dire, l'Inter adesso pare essersi tirata fuori dalla corsa, si è parlato anche della possibilità che rinnovi con la Fiorentina e che quindi decida di rimanere, i 40 milioni di richiesti sono ovviamente improponibili, ma non solo per noi o per l'Inter, per chiunque, perché nessuno pagherà mai 40 milioni di euro per Milenkovic e quindi restano a detta dei quotidiani, vive, piste alternative, nell'idea sempre che il Milan vada a fare, anche un difensore centrale. E si parla di nuovo di Fofana, di Ayer, insomma di questi giocatori qua, di quali abbiamo lungamente parlato nel corso delle passate settimane. Veniamo alle questioni di centrocampo. Allora, a centrocampo ci sono tre nomi. Uno ne abbiamo parlato molto, uno ne abbiamo parlato un po', e uno ne abbiamo parlato e poi l'abbiamo lasciato perché pensavamo che andasse ai cugini, e cosa che secondo me è reale e la pista sarà questa. Allora, parliamo di quello di cui abbiamo parlato molto, che è Bakayoko. Allora, oggi secondo i giornali Bakayoko ha trovato l'accordo con il Milan, cioè sarebbe, avrebbe trovato l'accordo economico, 3 milioni e mezzo, più bonus, per arrivare a circa 4 milioni e mezzo di euro, rispetto ai 6 milioni che attualmente prende dal Chelsea. Si tratta sulla questione del cartellino. Perché? Perché il Chelsea, per non fare minusvalenza, deve vendere Bakayoko almeno a 15 milioni di euro. Vorrebbe ricavarne 20, il Milan non è disposto ovviamente a pagare 20, per cui se veramente Bakayoko è una pista viva, così come ci riportano i giornali, e stiamo come sempre a quello che leggiamo, quindi stando le notizie, sembra che il Milan sia davvero molto molto interessato a riportare Bakayoko a casa, ecco che si dovrà trovare un accordo tra i, diciamo, 13-15 che il Milan sarebbe disposto a spendere per il cartellino, forse arrivare fino a 18, e i 20 che chiede il Chelsea. Chiaramente se la differenza è tra 20 e 18 è praticamente già fatta. Se si tratta 13-15 a 20, ecco magari che bisogna parlarne un pochino di più. Comunque, ripeto, stando alle cronache, l'accordo con il giocatore è stato trovato appoggiandosi sulla sua volontà di ritornare al Milan e sulla voglia, insomma, anche di, secondo me, rimettersi un po' in careggiata dal punto di vista dell'ingaggio, perché è vero che è un ridimensionamento rispetto a quello che prende dal Chelsea, però è anche vero che 6 milioni di euro per Bakayoko sono totalmente fuori mercato, quindi anche lui deve fare inevitabilmente un passo indietro per cercare di rimettere a posto una carriera che altrimenti rischia di essere una carriera prettamente di prestiti fino alla scadenza del contratto con la squadra di Londra. Un altro nome che è circolato in queste ore e del quale abbiamo parlato anche ieri nel corso della diretta è quello di Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul, giocatore considerato interessante perché duttile, può ricoprire tutti i ruoli sotto la punta, quindi può fare l'esterno, ha fatto anche la mezzala, può fare il trequartista, può fare anche la seconda punta nella peggiore dell'ipotesi, insomma, un giocatore molto interessante stando alle cronache per il Milan, ma naturalmente il prezzo richiesto dall'Udinese, una cifra che si pensa possa essere 35-40 milioni di euro è considerata totalmente fuori mercato, anche da me personalmente, perché per De Paul, insomma, io più di 20-22, magari con qualche contropartita, non andrei a spendere, sinceramente sapete che cosa penso di De Paul. In ogni caso può essere che ci sia appunto la proposta del Milan, proprio di inserire alcuni giovani, vedremo, si parla molto di De Paul alla Juventus, il giocatore ha fatto capire, ha fatto intendere che avrebbe voglia di lasciare Udine, di provare altre esperienze, vedremo un po' dove andrà. Il terzo nome che vi faccio del centrocampo è quello di Sandro Tonali. Oggi la Gazzetta dello Sport ci racconta di un'offerta presentata dal Milan al Brescia di Cennino, da 25 milioni di euro respinta dal patron del Brescia che, secondo me, ha già stabilito tutto con l'Inter e quindi si tratta di notizie non molto fondate, a mio avviso, oppure possono essere anche notizie vere ma non riconducibili a questa fase di mercato, ma piuttosto una fase iniziale. Ma secondo me, ripeto, Tonali è un giocatore che va all'Inter. Vediamo le questioni di attacco. Allora, le questioni di attacco partiamo intanto con un dato statistico che oggi ci raccontano su Akan Cialanoglu, che dalla ripartenza post-lockdown è stato il secondo giocatore più decisivo in Europa perché ha preso parte a 14 dei gol segnati del Milan e solo Leo Messi di superiore con 15. Vi do questa pillola statistica. Il rinnovo di Ibra sta diventando una piccola telenovela, ma sta diventando una telenovela semplicemente per i giornali. E per noi è un po' che ne parliamo, nel senso che credo che tra il Milan, Raiola e Ibra ci siano già più o meno tutti gli accordi. È chiaro che sono contratti abbastanza complicati, quindi bisogna cercare di sistemarli nel modo più corretto. In ogni caso, non stiamo ad andare tanto dietro a quello che scrivono i giornali, perché i giornali ci avevano detto che entro weekend si sarebbe chiuso, adesso spostano alla firma Ferragosto. Comunque credo che non ci siano intoppi per quel che riguarda la firma di Zlatan Ibrahimovic, che avverrà sicuramente prima del 24, data del ritiro, insomma dell'inizio della nuova stagione, quindi Zlatan ci sarà. Tutto Sport oggi fa un'inchiesta su Leao e dice Rebus Leao o la prossima stagione cresce si conferma oppure il Milan lo mette sul mercato. Staremo a vedere, io sono convinto che Leao farà bene la prossima stagione. Chiudiamo con Federico Chiesa. Allora, Lorenzo De Santis, che è un agente intermediario, ha detto che il Milan è molto avanti per quel che riguarda l'acquisto di Federico Chiesa, che lui, questo procuratore, valuta tra i 45 e i 50 milioni di euro. Secondo lui Milan è molto avanti nella trattativa, Milan che vorrebbe inserire all'interno di questa trattativa anche Paketak, però la Fiorentina non si sa bene se vuole oppure no. In ogni caso il nome sembra essere sempre più quello, quindi non lo so con che formula, non lo so con che modalità, io spero che non paghino 50 milioni di euro Federico Chiesa, sinceramente, poi se lo faranno staremo a vedere, è chiaro che loro sanno assolutamente meglio di tutti noi qual è la situazione, quanto possono andare a spendere e soprattutto dove andare a spendere, perché può essere anche che decidano di fare un paio di interventi molto seri, cioè comprando i giocatori di prospettiva ma anche già pronti come Chiesa e poi del contorno per fare il numero. Staremo a vedere quale sarà la strada che prenderemo. In ogni caso sono andato a vedermi un po' le statistiche di Federico Chiesa, c'è da dire che il trend è in crescita, lui ha fatto 134 presenze e 25 gol in Serie A, negli ultime stagioni ha fatto 3 gol il primo anno, poi 6-6 quest'anno 10, quindi diciamo appunto è un trend in crescita e io, come vi ho sempre detto, in quella zona di campo metterei un attaccante che porti almeno tra gli 8 e i 12 gol, quindi una cifra di gol importante, e poi come diceva anche qualche amico ieri, basta piedi invertiti e andiamo a prenderci un giocatore che gioca col piede destro sulla fascia destra, non sarebbe male anche perché io i piedi invertiti sinceramente comincio ad averne abbastanza e non solo per Suso ma anche per tanti altri che si vedono nelle altre squadre dove invece di guadagnare un tempo di gioco generalmente lo si perde. Passate una buona serata, mettete un like al video e noi ci sentiamo domani, mercoledì sera staremo insieme per commentare la partita tra l'Atalanta e il Paris Saint-Germain, ma non solo, faremo un po' di salotto con gli amici del canale per discutere anche di Champions, di Serie A, di Juve, di Milan naturalmente, di mercato e tutto quanto, quindi non mancate a partire dalle 20.50 mercoledì sera.